Passiamo all'oggetto numero 4, percorribilità pedonale della strada statale 209 Valnerina a seguito di interventi di installazione dei nuovi guardrail. Prego Consigliere De Luca. Grazie Presidente, io Assessore esporrò integralmente la mia interrogazione e poi lei risponderà ovviamente quello che le è pertinenza perché non entrerò nel merito dopo e poi andremo a vedere nel dettaglio. Con questa interrogazione noi vogliamo porre l'attenzione su quello che è un fenomeno che ha riguardato in questo momento nella fattispecie la strada statale 209, la Valnerina, ma che in realtà riguarda tante delle aree interne della nostra regione. è vero, parliamo di mille, duemila, tremila abitanti, alla fine se andiamo a fare le somme parliamo di circa il 30% della popolazione umbra. quindi parliamo di cittadini che devono avere pari dignità e diritti di quelli che vivono a Corso Vannucci. Che cosa è successo? Ci siamo ritrovati nel giro di pochi giorni a vedere un intervento da parte di ANAS che nella sostituzione e installazione di guardrail sul tracciato della strada statale 209 e anche l'installazione di reti all'interno delle aree di sosta ha infatti ristretto in maniera sensibile la carreggiata andando a eliminare la banchina petonale. Addirittura abbiamo dei tratti in cui il guardrail è stato installato sulla riga bianca quindi entrando di qualche centimetro anche all'interno della strada e nei fatti oltre un evidente disagio anche per la percorribilità a livello di veicoli a motore è stata de fatto eliminata la percorribilità petonale di questa strada. Per chiarirlo non stiamo parlando di una superstrada ma stiamo parlando di una strada ad alta vocazione turistica che collega centri abitati come unica via di percorso centri abitati che oltretutto anche in termini di sicurezza e di garanzia dell'impolumità pubblica in un'area ad alto rischio sismico e con aree e zone con alto rischio idraulico e ad alto rischio alluvione si ritrova ad avere questi punti di accesso, questi sbocchi sulla strada statale 209 come uniche vie di fuga. questa strada si intreccia in maniera imprescindibile anche con alcuni percorsi turistici della nostra regione non solo quelli che sono ovviamente i cosiddetti cammini religiosi e la via di Francesco che hanno una vocazione turistica di assoluta centralità all'interno della nostra regione ma anche con tanti sentieri turistici ad alta vocazione storico-artistica che riguardano patrimoni di assoluta centralità all'interno del nostro patrimonio storico-artistico fra tutti l'Abbazia di San Pietro in Palle, l'Abbazia dei Santi Felici e Mauro e l'Abbazia di San Teodizio con sentieri che direttamente attraversano la strada statale 209 ci sono molti centri abitati nei vari comuni a partire dal comune di Derni passando per il comune di Arrone, di Monte Franco, di Ferentillo e via via fino ad arrivare al comune di Preci che non hanno alcun tipo di collegamento diverso ho avuto modo di avere delle interlocuzioni con Anas nei mesi scorsi in cui abbiamo posto all'attenzione queste situazioni senza avere risposte a livello strutturale ma solo una disponibilità su soluzioni tampone considerato che, concludo Presidente, non parliamo di una strada dove molto spesso la concentrazione viene posta sulla Trevalli rispetto a quella che è l'alta pericolosità con incidenti sistematici ma parliamo di una strada in cui nelle scorse settimane anzi parliamo delle scorse due settimane ci sono stati due morti diciamo per incidenti purtroppo legati a veicoli a due ruote dove proprio in uno dei tratti dove è stato sostituito il guardrail c'è stato un grave incidente per una persona che la stava percorrendo credono talmente, percorrendola tutti i giorni come penso anche altri in quest'aula sulla strada statale Valnerina sistematicamente ci sono persone che passano a piedi turisti con i zaini spalla persone che vanno a lavorare nei campi situazioni in cui quello è l'unico spocco con questa interrogazione abbiamo semplicemente chiesto alla giunta se sussista un divieto di transito pedonale sulla strada statale 209 un divieto di transito e tengo a ribadirlo non segnalato perché non c'è alcun segnale di divieto di accesso pedonale e quindi se sussista questo divieto di transito e nel caso in cui sussista quali sono gli intervalli chilometrici interessati dall'aria divieto se non sussiste questo divieto a quel punto la fruibilità pedonale e la sicurezza delle persone deve essere garantita e deve essere garantita con delle soluzioni strutturali che vanno messe in campo nessuno chiede la luna nessuno vuole la bacchetta magica dell'assessore Melasecchie chiariamoci quello che si chiede è di mettere intorno a un tavolo sindaci, regione, anas tutti i soggetti che hanno titolarità intorno a questo percorso e fare progettare delle soluzioni ripeto strutturali perché se ci lamentiamo dello spopolamento se ci lamentiamo dell'abbandono dei nostri territori è evidente che dobbiamo anche porre delle soluzioni grazie consigliere prego assessore Melasecchie dunque sembra incredibile ma un minuto fa esattamente dopo che aveva annunciato e sollecitato la risposta da parte dell'anas un minuto fa mi è giunto il messaggio dalla mia segreteria che un minuto prima era arrivata la risposta dell'anas da Roma che leggo integralmente l'ho appena letta poi la commentiamo io farò il mio commento atto numero 2143 consiglio regionale interrogazione a risposta immediata del consigliere De Luca percorrimilità pedonale della strada statale 209 Valnerina a seguito degli interventi di installazione di nuovi guardrail il riscontro alla cortese sua dello scorso 18 giugno si rappresenta quanto comunicato dalla competente direzione ANAS Umbra con verbale di consegna del 1 ottobre 2018 si è formalizzato il trasferimento ad ANAS di circa 243 chilometri di strade regionali e provinciali tra cui la strada statale 209 Valnerina nell'ambito dell'attività di riqualificazione e potenziamento della rete stradale Umbra ANAS ha provenuto ad eseguire interventi per il ripristino della pavimentazione stradale ammalorata sostituzioni di integrazione della segnaletica verticale e orizzontale e adeguamento delle reti paramassi per quel che riguarda le barriere laterali guardrail queste sono state adeguate e integrate lungo la strada statale 209 sulla base dei dati di incidentalità e installate sul bordo esterno della piattaforma stradale come estressamente previsto dalla normativa vigente l'articolo 109,1 del codice della strada disciplina che il transito dei pedoni in assenza di marcia a piedi o banchina debba venire sulla carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli ad oggi non sono state emanate ordinanze di limitazione del transito pedonale per i tratti stradali che non consentono il passaggio dei pedoni a causa della vegetazione ANAS ha già rappresentato nel corto dell'incontro del 16 maggio la disponibilità di effettuare un sopralluogo congiunto con gli enti interessati per verificare la necessità di eventuali interventi e la relativa fattibilità tecnica in relazione alle criticità lungo la fermata dell'autobus citata la scrivente provvederà a modificare l'attuale recinzione per consentire all'utenza di usufruire del pubblico servizio in sicurezza questa è la risposta che leggo in diretta allora qualche osservazione qualche osservazione la situazione generale intanto spiego una cosa evidente la regione non ha un rapporto gerarchico nei confronti dell'ANAS cioè un rapporto derivante dal contratto di servizio per quanto riguarda le nuove opere e per quanto riguarda le manutenzioni e la moral suasion che può esercitare viene esercitata puntualmente debitamente dalla regione e dalle grandi opere alle manutenzioni abbiamo in corso una serie numerosissima di interventi di importanza fondamentale storici che non sto qui a delencare stiamo per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie portando a compimento una serie di interventi enormi mai visti che porteranno le strade statali regionali mai ripeto accaduto nel passato a consolidamento di tutti i viadotti a consolidamento dei muri perimetrali a consolidamento delle frane che da vent'anni incombevano parlo di San Gemini Marciano Colle Valenza a e per quanto riguarda i viadotti in modo particolare ricordo il Montoro che aveva problemi strutturali gravissimi e avrebbe dovuto essere abbattuto e ricostruito ex novo con problemi enormi per il traffico regionale e nazionale per cui si sta provvedendo purtroppo con una certa lentezza da me personalmente rilevata in più occasioni in tutti i modi nei confronti dell'ANAS non è finito per quanto riguarda le strade regionali ricordo che le passate amministrazioni di sinistra visto il campo largo a cui lei oggi piacevolmente appartiene avevano accumulato 10 milioni di debiti la regione nei confronti della provincia per cui la provincia oggi di Perugia abbiamo sistemato la partita anche con quella di Terni ha 10 milioni per intervenire per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e deve provenire quanto prima quindi su questo la pregherei di insistere anche lei nei confronti della provincia per quanto riguarda i comuni le ricordo e completo il quadro ci sono dei finanziamenti importanti da parte del governo quindi nel complesso devo dire mai c'è stata un'attività di manutenzione come in questi anni e come in questo periodo nel caso specifico questo tipo di lavorazione ANAS l'ha decisa a prescindere dall'informazione che noi chiediamo preventivamente per i cantieri tant'è che l'è preciso l'incontro che ho chiesto ad ANAS convocando i dirigenti regionali è praticamente era stato fissato per questa settimana ma per ragioni di assenza dal lavoro dei dirigenti è stato rifissato per i prossimi giorni quindi chiederemo in quel momento sia il quadro complessivo a che punto stanno i cantieri perché vorremmo assolutamente accelerare lo ricordo che noi abbiamo chiesto ripetutamente che le imprese lavorassero su due turni e il sabato cosa che per assenza carenza di personale le imprese e l'azione di categoria d'altronde lei come ben sa i sindacati non gradiscono che vengano fatte ore di straordinario per cui da questo punto di vista noi cerchiamo di accelerare al massimo anche questi lavori ad ogni buon conto il giorno 4 avremo questo incontro sarà un incontro molto complesso perché andremo ad esaminare tutte queste situazioni caso per caso la durata dei cantieri e parleremo sicuramente nel dettaglio anche della strada statale Valmerina su cui le ricordo sono stati fatti sulla 685 in particolare lavori importantissimi e altrettanto importanti stanno partendo la pregherei su questo di coadiuvare l'azione fattiva della regione perché alcune diciamo alcune espressioni di interessi locali questo interessa anche il Consiglio Bianconi per diciamo l'atto successivo che però non vedo per cercare di portare avanti quei lavori perché diversamente lo spopolamento avviene quando non c'è un miglioramento della sicurezza della diciamo della viabilità generale e questo su questo ripeto stanno partendo appalti importantissimi come il primo stralcio della Trevalli ormai è cosa è in corso la gara d'appalto da parte dell'ANAS abbiamo come noto e concludo il progetto finalmente del secondo stralcio per il quale abbiamo chiesto con la Presidente anche il finanziamento a livello nazionale al Ministero quindi devo dire c'è un'attività intensissima che riguarda anche soprattutto la Valnerina sui dettagli di cui lei parla al di là della risposta che le ho letto appena pervenuta faremo insistentemente diremo le nostre buone ragioni e riporteremo quanto da lei sottolineato nell'interrogazione per avere risposte concrete in merito a quanto potremo dall'ANAS avere in termini di operatività migliore rispetto a quanto fatto fino ad oggi grazie grazie assessore prego consigliere Federuca per la replica grazie presidente ma assessore Melasecche oneri e onori quando si prende il merito di ogni intervento di ANAS è sempre merito suo quando ci sono diciamo situazioni critiche è colpa di ANAS io non mi ritengo assolutamente soddisfatto dalla risposta di ANAS la risposta di ANAS anzi per quanto mi riguarda lo voglio dire in maniera chiara è indisponente perché inserire all'interno di quella risposta il fatto che la strada vada percorsa al senso contrario di marcia dai pedoni il codice della strada non serve che ce lo spiega ANAS quindi è evidente che la restrizione però della carreggiata rende ovviamente obbligatorio così come loro scrivono ai pedoni di dover camminare in mezzo alla strada e con una strada in cui su quei tratti ci ritroviamo a quel tipo di pericolosità è una cosa improponibile per persone che per poter lavorare vivere andare a comprare da mangiare così come mi ha risposto qualcuno ma che non ce l'hanno la macchina no non ce l'hanno la macchina perché ci sono anche persone anziane persone che hanno il sacrosanto diritto di potersi muovere in piena sicurezza quindi in questo momento io credo che a prescindere le rigiro quello che è stato il suo invito nella misura in cui per quanto mi riguarda ad esempio l'intervento sulla Trevalli che è l'argomento unico di discussione all'interno degli interventi di ANAS perché per la strada statale di 209 così come è stato ripetuto più volte anche ai sindaci non ne interessa assolutamente no? allora se la Trevalli è l'unico argomento di discussione quei 25 milioni di euro messi su diciamo l'intervento su Ballo di Nera l'avremmo potuto dispendere magari per sistemare questi interventi con una proposta concreta proposta concreta che è quella che è scritta anche all'interno di questa interrogazione facciamo e trasformiamo a questo punto la Greenway del Nera nella via ciclopedonale ci sono degli investimenti importantissimi in questo momento sul tratto Ternica Scalata del Marmore liberiamo quella strada e facciamo però garantiamo che tutti i centri possano essere collegati là soluzione che però non è diciamo universale perché? perché oltre a dei centri abitati che se andiamo a sommare non dico che parliamo di migliaia di persone ma di questo stiamo parlando perché ci sono anche aree industriali importanti parliamo anche di centri diciamo di case che vivono di rimpetto sulla strada del 209 e che non possono avere questo tipo di diciamo di questo tipo di ignorando questa ignorando i diritti di queste persone quindi su questo io le posso assicurare assessore che le morderò i calcagni non passeremo di un'altra